Ben ritornati su Sicilia24, nuovo appuntamento con l'informazione di Spazio Notizia, apriamo parlando di disabili con la finanziaria, in discussione a Lars è a rischio il fondo destinato alle persone con disabilità gravi, ebbene il movimento Siamo Anticappati, no cretini, non ci sta e passa l'attacco, vediamo il servizio. Il governo musumeci stavolta ci sta provando seriamente ad abolire l'assegno di cura e tanti servizi essenziali, e quanto denuncia in una nota il movimento Siamo Anticappati, no cretini, Secondo il disegno di legge della finanziaria, in discussione a Lars si legge, il governo regionale vuole follemente tagliare di quasi 100 milioni di euro la dotazione del capitolo di bilancio dedicato, questo significa che già da giugno il contributo mensile non verrà più erogato, con un costo sociale inimmaginabile che massacrerà l'esistenza di 13 mila disabili gravissimi. Delle due l'una, scrive ancora il movimento, ho tagliato i capitoli senza sapere cosa contengono, previsione tra le più rose e che comunque tiene in considerazione l'approssimazione e ignoranza di questa classe politica, oppure siete davvero senza scrupoli e senza uno straccio di dignità, perché soltanto dei politici senza alcun ritegno e senso civico, neppure umani potrebbero ipotizzare di fare una cosa del genere. Siamo 13 mila persone, 13 mila famiglie, moltissimi di noi vivono anche da soli e riescono ad alzarsi la mattina e ad essere accuditi solo con l'assistenza di soggetti a cui devono pagare questi servizi. Confidando da cinque anni su questa entrata, prosegue la nota, 13 mila persone hanno anche assunto impegni con assistenti per sopravvivere. Tragnate pure i fondi, fatelo e vi ricorderete di tutti noi. Organizzeremo qualcosa di mai visto prima, perché alla vostra sfrontatagine risponderemo con la nostra sola presenza. Vedremo sotto campagna elettorale chi la spunterà. E come avete visto l'argomento è molto molto importante. Dicevamo del movimento, allora andiamo a vedere proprio la pagina Facebook del movimento siamo handicappati no cretini, questo è il lungo post di denuncia il cui contenuto era appunto prima nella servizio, ma ci sono altre dichiarazioni perché vedete il post è davvero lungo, assegno di cura a rischio, vi aspettiamo al barco, siamo alle solite dopo tanti anni di promesse mancate e fatiche. Ci risiamo, questo l'amaro messaggio pubblicato su Facebook. che poi per tutti i deputati regionali guarderemo in diretta ogni seduta e denunceremo, come sappiamo fare, le azioni, le omissioni e le assenze di ognuno di voi, perché è vostro dovere morale porre rimedio subito tutti insieme allo scena proposta di questo governo. Saremo altrimenti costretti, oltre ad azioni clamorose, a mettere le vostre belle foto in primo piano. E dunque, come detto, l'argomento è certamente di grande importanza e monitoreremo la situazione e ve ne daremo conto eventualmente nelle prossime edizioni di Spazio Notizia. Lo stesso Musumeci ha parlato ieri a Milano, ovviamente, di altri argomenti, ha parlato del centrodestra, dell'unione del centrodestra in vista delle elezioni regionali. Vediamo il servizio. Nel centrodestra in Sicilia nessuna contesa, c'è soltanto la necessità di fare chiarezza. Sono convinto che i leader delle varie forze politiche troveranno le ragioni che uniscono piuttosto che quelle che dividono. Sono fiducioso. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, parlando alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano. Sono convinto che troveremo l'unità, ha ribadito, e che troveremo la forza dello stare insieme. Sto governando con la Lega e Forza Italia insieme dal primo giorno. Ho affidato a Giorgia Meloni la soluzione del problema siciliano, qualunque essa sia, ha detto Musumeci a chi gli domandava se fosse disponibile a correre da solo in caso di mancato accordo nel centrodestra. Il governatore si è detto ottimista. Sono convinto che alla fine prevarrà il buonsenso da parte di tutti i leader del centrodestra. Sto governando con tutti. A livello locale siamo uniti, quindi credo sia una battaglia che leggo solo sui giornali. Ringrazio Fratelli d'Italia per la fermezza e la tenacia con cui stanno perorando questo diritto, cioè che un uscente che abbia lavorato, che sia una persona per bene e da noi in Sicilia è una cosa che costa, non sia sostituito. Salvini ha detto decidano i siciliani, ma certo, ha concluso il Presidente, un intervento nazionale aiuterebbe. Era in discoteca con una pistola e il corpo in canna. È successo a Catania e i carabinieri lo hanno arrestato. Vediamo il servizio. I carabinieri della squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato un catanese trentenne nella flagranza di reato di porto, detenzione e ricettazione di un'arma da fuoco clandestina. Intorno alla mezzanotte dello scorso 25 aprile, un militare del Nucleo Investigativo, libero dal servizio nei pressi di un noto villaggio turistico, sito sul lungomare Kennedy, dopo aver notato un gruppo di una quindicina di persone intente a discutere animatamente, ha richiesto l'intervento di equipaggi del Nucleo Radiomobile al fine di evitare che la situazione potesse degenerare anche in considerazione dei recenti violenti episodi verificatisi nei pressi di un locale del centro cittadino. Nella circostanza, all'arrivo dei militari, uno dei soggetti più esagitati è stato fermato mentre tentava di defilarsi per sottrarsi al controllo. Il trentenne è stato quindi bloccato e identificato, risultando tra l'altro essere parente di un esponente di primo piano della famiglia di Cosa Nostra, Santa Paola Ercolano, ma soprattutto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 con colpo in canna ed altri 6 nel serbatoio, avente la matricola brasa e occultata nella tasca posteriore dei pantaloni. L'arma è stata sequestrata e sarà inviata al RIS Carabinieri di Messina al fine di verificarne l'eventuale utilizzo in eventi delittuosi. Il trentenne è stato associato presso la locale casa circondariale di Piazza Lanza, dove tuttora permane su disposizione dell'autorità giudiziaria all'esito dell'udienza di convalida. Ed ora a Caltagirone, dove un giovane non solo era in possesso di un'arma da fuoco, in questo caso un fucile, ma l'ha addirittura utilizzato sparando nei confronti di un altro ragazzo, a quanto pare suo rivale in amore. Vediamo il servizio. I militari della compagnia di Caltagirone hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventenne calatino gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco in luogo pubblico. Il fatto è accaduto intorno alle 2 del 28 aprile scorso, quando un 24enne del posto, vittima del tentato omicidio, si è autonomamente recato presso il pronto soccorso di Caltagirone, in quanto aveva subito un'aggressione armata ed era stato attinto da un colpo di fucile al braccio sinistro. Le indagini svolte dai carabinieri nell'immediatezza hanno consentito di acquisire primi importanti elementi indiziari a carico del ventenne che, tra l'altro, sarebbe stato riconosciuto dalla vittima durante l'azione di fuoco. Secondo i primi accertamenti, il presunto autore del reato avrebbe iniziato la propria condotta violenta già alcune ore prima, inizialmente a bordo della sua autovettura, inseguendo la vittima per le vie del centro. Nel corso dell'inseguimento avrebbe raggiunto e costretto il 24enne ad arrestare la marcia del proprio veicolo, colpendolo con un bastone, provocandone la rottura di finestrini e lunotto posteriore. Infine, le attività svolte hanno permesso di ricostruire la dinamica secondo cui i due giovani si sarebbero dati appuntamento poco dopo nella contrada collegiata di Caltagirone, verosimilmente per regolare i conti in merito a questioni sentimentali legate ad una ragazza, e l'accusato, che nel frattempo si sarebbe armato di un fucile illegalmente detenuto, che non è stato ancora rinvenuto, avrebbe attinto il 24enne con un colpo a bruciapelo. Il giovane non versa in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Il ventenne, invece, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa della convalida del fermo eseguita da parte del GIP. E da Caltagirone ci spostiamo a Vittoria, dove tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri per un furto. Vediamo il servizio. Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio di Vittoria, per contrastare i reati predatori nelle aree rurali della giurisdizione e dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza della comunità. Lo scorso 25 aprile, durante un servizio di perlustrazione, i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vittoria e del Comando Stazione di Vittoria hanno stretto le manette ai polsi a tre nulla facenti vittoriesi, un 25enne, un 23enne e un 22enne, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine. I tre, verso l'ora di pranzo, approfittando della giornata di festa e quindi della poca presenza di persone in strada, avevano smontato 22 sbarre in alluminio da una struttura serricola a Vittoria ed erano pronti a caricarle su un loro furgone perché gli servivano per completare un'altra struttura nel terreno di uno di loro. Gli arrestati sono stati tradotti presso le loro abitazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato gli arresti. Ancora cronaca con due news che condividiamo insieme a voi dal nostro portale spazionotizia.it La prima purtroppo è una tragedia che ci arriva da Ribera, ancora a sangue sulle strade siciliane. Un incidente costato la vita a un 44enne. Si tratta di Vincenzo Spagnolo, imprenditore nel settore turistico, il quale, come detto, ha perso la vita dopo un terribile impatto avvenuto sulla statale 115 all'altezza del Bibio per la frazione riberese di Borgo Bonsignore. Per cause ancora da accertare, l'uomo in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto. è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove è giunto in condizioni critiche. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, i medici non sono riusciti a rianimarlo. E poteva scappare, poteva diventare una tragedia, anche l'incendio divampato ieri in una mansarda a Zafferana Etnea. Vi mostriamo anche le immagini, alcuni scatti fotografici del rogo. Tanta paura, ma alla fine, come detto, non ci sono stati feriti nell'incendio divampato in un edificio situato in via Nuova Guglielmo Marconi. Fortunatamente nella mansarda e nei piani sottostanti non si trovavano persone al momento dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari del distaccamento di lingua glossa insieme alla squadra del distaccamento di riposto. Le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora state accertate. E adesso facciamo il nostro consueto punto con la guerra in Ucraina. Ha parlato nuovamente il presidente Zelensky. Il rischio di chiudere completamente qualsiasi dialogo con i russi è altissimo, ha affermato il presidente nel corso di una conversazione con i media polacchi. Inoltre il processo di negoziazione con i rappresentanti di Mosca, ha aggiunto Zelensky, procede molto lentamente. Per questo, ha ribadito, serve un incontro diretto tra lui e Vladimir Putin, l'uomo che decide tutto in Russia. Se c'è una sola possibilità dovremmo parlare, ha detto Zelensky. Intanto si continua a combattere. Le notizie che arrivano dal fronte sono sempre più drammatiche. A oltre due mesi dall'inizio del conflitto, i soldati russi hanno sparato contro due autobus che stavano evacuando civili dalla città di Popashna nella parte orientale di Lugansk. Lo ha reso noto il sindaco della città. Dopo l'attacco, la comunicazione con gli organizzatori dell'evacuazione che erano nel veicolo è saltata e non si sa ancora se ci sono delle vittime. E poi due scuole e 20 palazzi residenziali sono stati danneggiati dai bombardamenti dell'esercito russo nelle ultime 24 ore. E ancora un mezzo della polizia che consegnava forniture mediche a un ospedale è stato centrato dai colpi di mortaio a Severodonetsk. Lo ha scritto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk su Telegram. Anche un'auto di volontari è stata colpita dal fuoco dei soldati russi. Per il momento non si hanno notizie di feriti o vittime. E poi ancora spari a due autobus che portavano in salvo decine di persone da Popashna in Ucraina, persi i contatti con gli autisti. Dunque, come abbiamo potuto sentire dai nostri aggiornamenti, si continua a sparare purtroppo non soltanto a mezzi militari ma anche a mezzi di soccorso. E queste purtroppo sono le sfaccettature tragiche di un conflitto. Vi daremo aggiornamenti sulla situazione in Ucraina nel corso della prossima edizione di Spazio e Notizia. Intanto per il momento ci fermiamo qui. Ci vediamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo. Autore dei sottotitoli e Notizia